Marco Ragazzi, uscire così fa male. Posso stare zitto o devo parlare? Prego, domanda a piacere. Sinceramente mi dispiace molto perché non ha vinto la pallacanestro, che è la cosa a cui io tengo di più ed è la mia passione e il mio amore nella vita. Stasera hanno vinto tutto quello che non è pallacanestro, tutto quello che è e dovrebbe essere strano la pallacanestro. Poi sì, la partita l'abbiamo condotta, l'abbiamo fatta, abbiamo avuto anche qualche decina di punti di margine, sapevamo che è una partita tosta in casa loro. Ci è mancato Donadoni dopo il colpo che ha subito, quindi una rotazione meno negli esterni di un giocatore imprevedibile che ci dava difese, ci dava sostanza per quello che erano i tagli del lato debole che loro subivano molto. E' andata così, il rimpianto chiaramente chi l'ha vista non può dire che la partita l'abbiamo fatta, l'abbiamo vinta, non l'abbiamo vinta purtroppo sul campo. C'è stata defraudata in un modo anche balordo, ma oggi è capitato noi e faccio i complimenti ai ragazzi, è stata un'annata fantastica, meravigliosa, stupenda, dove abbiamo stupito. Faccio un omaggio e un ringraziamento con tutta la mia anima al pubblico che è stato veramente meraviglioso e sinceramente abbiamo vinto anche sugli spalti.